Domenico Battaglia, consigliere regionale del Partito Democratico, lei si porta dietro un pezzo di storia? Eh, l'ha detto bene, non faccio la cosa figlio d'arte, perché figlio d'arte io ho cominciato a fare politica, che certo in casa si è sempre respirato politica, papà è stato sindaco, assessore regionale, deputato, dagli anni, diciamo, fine metà 60 in poi, dagli anni 60 fino al 90, però è chiaro, noi abbiamo avuto questa palestra di vita in casa e quindi per noi la politica, rinunciavamo a qualche ora per giocare a pallone e facevamo politica sin dalla scuola, ai decreti delegati, sono un po' vecchiotto però, insomma. Chi è Domenico Battaglia nella vita? Chi è Domenico Battaglia? Uno che fa politica da sempre, perché per noi politica significa servizio, servizio a nostra gente, servizio a una comunità bellissima che è la comunità calabrese, con i tanti suoi bisogni, con un modo molto umile, molto umano di atteggiarci, per il resto è un funzionario del Consiglio regionale della Calabria, oggi in aspettativa perché fa il Consigliere regionale della Calabria, una cosa alla quale abbiamo creduto fortemente e che arriva dopo un impegno forte, sono stato tre volte Consigliere provinciale, Assessore nella precedente amministrazione, però con grande veramente forza e con l'idea di poterci spendere per la Calabria, ci siamo candidati alle elezioni del 23 novembre. Si è candidato e nel candidarsi ha detto nessuno primo, nessuno ultimo e ha lanciato un segnale di emancipazione della classe politica regina in particolare, perché? Sì, perché io credo che questa terra abbia bisogno di guardare la politica come un modello di riferimento e allora spesso la politica non è un riferimento positivo e allora noi dobbiamo mandare un messaggio forte anche alle giovani religioni, fare politica è una cosa bella. Io l'altro giorno sono stato ospite a un convegno, si parlava del pensiero di Santa Caterina da Siera che era un'analfabeta del 1300, donna che era diventata il potente europeo della politica circa 700 anni fa, quindi è una cosa da poco, il cui diceva soprattutto che la città prestata, ora noi abbiamo la Calabria, la provincia, le città sono prestate e noi dobbiamo essere bravi a restituirle un po' meglio di come le abbiamo trovate e allora io credo fortemente nel messaggio e nel primato della politica ma deve essere fatta bene, interpretata bene e soprattutto accanto ai bisogni della gente. Perché è orgoglioso di essere calabrese? Per tutto questo, perché è una terra bellissima e perché io credo che ci sono tutti i connotati positivi nel popolo calabrese, bisogna saperli tirare fuori, io credo che vada recuperato un forte senso di appartenenza che forse in questo periodo manca, la gente purtroppo per la mancanza di lavoro scappa via della Calabria, bisogna far tornare i calabresi, quelli che sono bravissimi fuori dalla Calabria, a essere orgogliosi di essere calabresi in Calabria. Le auguro buon viaggio in Calabria. Grazie, grazie. Grazie.